Non so se lo sapete, ma blatte e scarafaggi sono sinonimi, non si tratta di animali diversi. Le blatte sono sempre alla ricerca di ambienti caldi e umidi e entrano nelle nostre case alla ricerca di riparo e cibo. Vivono praticamente ovunque, l'unica soluzione per non incontrarle è scappare in Antartine, l'unico posto al mondo che non hanno colonizzato. Ne esistono oltre 4.000 specie, ma quasi sicuramente si è incappato in lei. La blattella germanica, che si riconosce dalle due strisce nere subito dopo la testa. Oppure lei, la blatta americana, dal tipico colore rosso-marrone. In realtà è originaria dell'Africa e ha iniziato a diffondersi in America e poi nel resto del mondo a partire dal 1500, intrufolandosi sulle navi. Ma questa è un'altra storia.